Signori, Fira della Casa 2016, siamo qui con Wellstar Professional Beauty. Momenti incredibili, signori, sono qui con Anna. Anna, spiegaci di che si tratta. Allora, è un trattamento, è un macchinario che si chiama Rivoluzione della Bellezza. Riduce le rughe e ringiovanisce di 10 anni. Fantastico. Allora, io non lo so, perché ne ho 24, quindi insomma se ci provo non vorrei diventare bambino. Però magari un passante, passante, mi scusi, venga un attimo qui. Salve, come si chiama? Renato. Allora, lei è disposto a fare un trattamento Wellstar Professional Beauty in questo momento? Che vuol dire? Vuol dire che le facciamo un trattamento che dura 12 minuti, dove andiamo a pulire la pelle prima con il detox, poi lo andiamo a nutrire con l'acido iaruronico e dopo ci facciamo... Muriatico. Iaruronico. Quello muriatico serve per un'altra cosa. E poi le facciamo un lift, sempre con il Galvanic che è un semi-butolino dove va a togliere tutte le rughe. Ovviamente, certo, con uno stasera lei non fa niente, ne deve fare minimo tre e c'è un kit completo che dura quattro mesi di trattamenti. Allora, la vuole fare, signor Renato? Vuole provare? Ma è efficace, anche con un caso disperato come il sottoscritto. È efficace su tutti. In azione, andiamo, proviamo. Allora, signori, questo è un momento incredibile. Il signor Renato sta per fare il suo trattamento e noi adesso vi facciamo vedere l'inizio, solo l'inizio, poi la lasciamo privata questa cosa. Insomma, la signora Anna si sta preparando. Come ti senti in questo momento? Emozionato, vorrei tanto tornare giovane. Lo stai per diventare. Ok. Allora, adesso vado a mettere il pizello. Si tolga gli occhiali. Questo va a pulire la pelle in profondità, che fa poi in modo che tutte le altre creme assorbono migliore la produzione dell'acido anulolico, e tutto il resto. Allora. Vai. Ci siamo. Sta per succedere qualcosa. Questa è la nostra macchinetta. Fantastico. Mica fa la barba questa. No. Ok, perfetto. Però se mentre fai il trattamento puoi anche telefonare. Vabbè. Si accende ed ogni trattamento viene, ecco, clean 3 minuti, nutri 6 minuti, mask 3 minuti. È già tutto collegato in questa macchinetta, quindi non c'è bisogno di... C'è una frequenza dove si alza, abbassa, alta, media e alta, e poi si accende e faccio il trattamento al signore. Vai Anna, vai. Si mette sempre due mani così, e due dita sul collo, perché questa in effetti fa anche radiofrequenza, ionofore, si fa un po' di tutto. Ed ecco che il signor Renato sta per provare la fantastica macchinetta Wellstar. Signori, prodotti incredibili qui alla Fiera della Casa 2016. Vi raccomando, venite tutti a testare questi fantastici prodotti. Vi aspettiamo.